Cari amiche e cari amici, ora vi leggerò una lettera tratta dal blog di Aldo Maria Valli. Prima di cominciare a leggervela, volevo avvertirvi che un video che ho privatizzato sarà sbloccato da qui a brevissimo, probabilmente entro dopo domani, è un video veramente bomba, molti di voi lo hanno già visto, pensate che io l'avevo pubblicato intorno alle 11.30 di sera e l'ho privatizzato la mattina alle 7, grosso modo mi sembra di ricordare, e ho già avuto 1700 visualizzazioni di notte, è veramente un video bomba, lo dico perché continuate a scrivermi, continuate a scrivermi, ma te l'hanno oscurato, ma YouTube ti ha censurato, no, l'ho privatizzato io, non vi posso dire i motivi, ma tutto sarà chiaro appena lo ripubblicherò. Detto questo, dal blog di Valli, cari amici di Duc in Altum, Monsignor Carlo Maria Viganò, Giannunzio della Santa Sede negli Stati Uniti, ha scritto una lettera aperta al Presidente Donald Trump, che è stata recapitata a lui personalmente. 7 giugno 2020, Domenica della Santissima Trinità. Signor Presidente, stiamo assistendo in questi mesi a formarsi di due schieramenti che definirei biblici, i figli della luce e i figli delle tenebre. I figli della luce costituiscono la parte più cospicua dell'umanità, mentre i figli delle tenebre rappresentano una minoranza assoluta, eppure i primi sono oggetto di una sorta di discriminazione che li pone in una situazione di inferiorità morale rispetto ai loro avversari, che ricoprono spesso posti strategici nello Stato, nella politica, nell'economia e anche nei media. Per un fenomeno apparentemente inespiegabile, i buoni sono ostaggio dei malvaggi e di quanti prestano loro aiuto per interesse o per pavidità. Questi due schieramenti, in quanto biblici, ripropongono la separazione netta tra la stirpe della donna e quella del serpente. Da una parte vi sono quanti, pur con mille difetti e debolezze, sono animati dal desiderio di compiere il bene, essere onesti, costituire una famiglia, impegnarsi nel lavoro, dare prosperità alla patria, soccorrere bisognosi, meritare nell'obbedienza alla legge di Dio, il regno dei cieli. Dall'altra, si trovano coloro che servono se stessi, non hanno principi morali, vogliono demolire la famiglia, la nazione, sfruttare i lavoratori per arricchirsi indebitamente, fomentare le divisioni intestine, le guerre, accumulare il potere, il denaro. Per coloro, l'illusione fallace di un benessere temporale rivelerà, se non si ravvedono, la tremenda sorte che li aspetta, lontano da Dio, nella dannazione eterna. Nella società, signor Presidente, convivono queste due realtà contrapposte, eterne, nemiche, come eternamente nemici, sono Dio e Satana. E pare che i figli delle tenebre, che identifichiamo facilmente con quel deep state alla quale ella saggiamente si oppone e che ferocemente le muove guerre, anche in questi giorni, abbiano voluto scoprire le proprie carte, per così dire, mostrando ormai i propri piani. Erano così certi di aver già tutto sotto controllo, di aver messo da parte quella circospezione che fin'oggi aveva almeno celato in parte i loro veri intenti. Le indagini già in corso svelieranno le vere responsabilità di chi ha gestito l'emergenza Covid, non solo in ambito sanitario, ma anche politico, economico e mediatico. Scopriremo, probabilmente, che anche in questa colossale operazione di ingegneria sociale vi sono persone che hanno deciso le sorti dell'umanità, arrogandosi il diritto di agire contro la volontà dei cittadini e dei loro rappresentanti nei governi delle nazioni. Scopriremo, anche, che i moti di questi giorni sono stati provocati da quanti, vedendo sfumare inesorabilmente il virus e diminuire l'allarme sociale della pandemia, hanno dovuto necessariamente provocare i disordini, perché ad essi seguisse quella repressione, che pur legittima sarà condannata come un'ingiustificata aggressione della popolazione. La stessa cosa sta avvenendo anche in Europa, in perfetta sincronia, è di tutta evidenza che ricorso alle proteste in piazza è strumentale agli scopi di chi vorrebbe vedere eletto alle prossime presidenziali una persona che incarne gli scopi del deep state e che di esso sia espressione fedele e convinta. Non stupirà apprendere, tra qualche mese, che dietro gli atti vandalici le violenze si nascondono ancora una volta coloro che nella dissoluzione dell'ordine sociale sperano di costruire un mondo senza libertà. Solve et coagula, insegna l'adagio massonico. Anche se può apparire sconcertante, gli schieramenti cui ho accennato si trovano anche in ambito religioso. Vi sono pastori fedeli che pascono il greggio di Cristo, ma anche mercenari infedeli che cercano di disperdere il greggio e dare alle pecore impasto ai rapaci lupi. E non stupisce che questi mercenari siano alleati dei figli delle tenebre e o di noi figli della luce. Come vi è un deep state, così vi è anche una deep church che tradisce i propri doveri, rinnega i propri impegni dinanzi a Dio. Così, il nemico invisibile che i buoni governanti combattono nella cosa pubblica viene combattuto dai buoni pastori nell'ambito ecclesiastico, una battaglia spirituale, della quale ho parlato anche in un mio recente appello lanciato lo scorso 8 maggio. Per la prima volta gli Stati Uniti hanno in lei un presidente che difende coraggiosamente il diritto alla vita, non si vergogna di denunciare le persecuzioni dei cristiani nel mondo, parla di Gesù Cristo, del diritto dei cittadini alla libertà di culto, la sua partecipazione alla marcia per la vita. E più recentemente la proclamazione del mese di aprile quale National Child Abus Prevention Month sono gesti che confermano in quale schieramento è la voglia combattere. Mi permetto di credere che entrambi ci troviamo compagni di battaglia, pur con armi differenti. Per questo motivo ritengo che l'attacco di cui ella è stato oggetto dopo la visita del Santuario Nazionale San Giovanni Paolo II faccia parte della narrazione mediatica orchestrata per combattere il razzismo e portare ordine sociale, ma non per questo, ma per esasperare gli animi, non per dare giustizia, ma per legittimare la violenza e il crimine, non per servire la verità, ma per favorire una fazione politica. Ed è sconcertante che vi siano viscovi come quelli che ho recentemente denunciato, che con le loro parole danno prova di essere schierati sul fronte opposto. Sono asserviti al deep state, al mondialismo, al pensiero unico, al nuovo ordine mondiale che sempre più spesso invocano in un nome di fratellanza universale che non ha nulla di cristiano, ma che evoca altresì gli ideali massonici di chi vorrebbe dominare il mondo, scacciando Dio dai tribunali, dalle scuole, dalle famiglie, forse anche dalle chiese. Il popolo americano è maturo, ha ormai compreso quanto i media mainstream non vogliono diffondere la verità, ma tacerla, distorcerla, diffondendo la menzogna utile agli scopi dei loro padroni. È però importante che i buoni, che sono la maggioranza, si sveglino dal torpore, non accettino di essere ingannati da una minoranza di disonesti confini inconfessabili. E' necessario che i buoni, i figli della luce, si riuniscano e levino la voce. Quale modo più efficace di farlo? Pregando al Signore di proteggere lei, Signor Presidente, gli Stati Uniti, l'umanità intera, da questo immane attacco del nemico, dinnanzi alla forza della preghiera, cadranno gli inganni dei figli delle tenebre. Saranno svelati alle loro trame, si mostrerà il loro tradimento, finché nel nulla, quel potere che spaventa fin tanto che non si porta a luce, si dimostra per quello che è un inganno infernale. Signor Presidente, la mia preghiera è costantemente rivolta all'amata nazione americana, presso la quale ho avuto il privilegio, l'onore di essere stato inviato da Papa Benedetto XVI come annunzio apostolico, in quest'ora drammatica, decisiva per l'intera umanità. E' nella mia preghiera, e con lei anche quanti l'affiancano nel governo degli Stati Uniti. Confido che il popolo americano si unisca a me e a lei nella preghiera a Dio Onnipotente, uniti contro il nemico invisibile dell'intera umanità. Benedico lei, la First Lady, l'amata nazione americana, e tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Carlo Maria Viganò Bene cari amici e cari amici, pollice su per il mio lavoro, sempre inchiodate al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo Grazie a tutti.